Benvenuti amanti dell'horror in questa nuova reaction del vostro doc di fiducia oggi facciamo il bis con Acquisti allarventi Dal deep web. Io non posso assicurarvi che il video che vedremo sia reale oppure Ricostruito ma comunque merita di essere visto complimenti a Luxury dark vi lascio il link originale del canale in descrizione ma adesso Partiamo immediata mont immediata mont nell'episodio di oggi Chester ha trovato un sito nel dark web in cui si può assumere una mamma come una mamma ma stiamo già dando i numeri qui cos'è stiamo giocando a tombola Non sappiamo ancora che tipo di mamme in affitto ci saranno e non sappiamo nemmeno chi le acquisterebbe e beh Effettivamente chi è il pazzo che acquisterebbe una mamma io ne ho già una mi basta e avanza è ti voglio bene mamma ma Non ti offendere ma oggi andremo comunque ad analizzare sto sito. Oh non vedo l'ora Perfetto eccoci qui questo è il sito chi comprerebbe una mamma chiede all'amico ma ancora è già la seconda volta che fa questa domanda Queste simpatiche madrine ti cresceranno come se tu fossi cresciuto nel loro grembo Tu dovrai contraccambiare l'amore che ti donerà E arrivò ma quindi cosa farà ti accudirà ti laverà cucinerà per te no penso che chi noleggi una madre voglia solo affetto Sì ma stiamo parlando di sconosciuti nel dark web Effettivamente abbiamo diverse scelte betty carol elisabeth Tutto sommato non sembrano poi così tanto male dai meredith mary margaret Queste sì che sono inquietanti ragazzi sono troppo inquietanti non voglio avere niente a che fare con queste mamme Aspetta guarda mary sembra parecchio carina come parecchio carina come parecchio carina Quell'alieno la descrizione dice che mary ha tre figli e vive nella stessa casa da 63 anni Dopo che la sua abitazione bruciò passò sei anni in un manicomio psichiatrico Adesso è in cerca di una nuova famiglia ma che cosa posso dire a riguardo ragazzi Cioè ha passato sei anni in un manicomio psichiatrico e adesso è in cerca di una nuova famiglia Non sono affari miei Semplicemente parlando la descrizione dice che non dovranno esserci parenti in casa quando lei arriverà E che non dovrà mai essere lasciata da sola io sono sicuro che questi due imbecilli la lasceranno da sola prima o poi in questo video ne sono quasi sicuro quasi sicuro pensi che vorrà adottarci Chester è decisamente troppo costosa 2700 dollari I morti del dark web rimani dove sei che tra l'altro ha una faccia molto contestabile questa questa mary Sì ma quanto stanno parlando questi qui parlano sempre a non finire a non finire Abbiamo comprato o assunto questa madre e ci sarà recapitata in qualche giorno ha proprio come un pacco postale Amazon levati abbiamo il dark web qua tre giorni dopo Piano ragazzi perché si fanno interessanti le cose sono le 2.30 di notte e ci aspettiamo che la mamma arrivi verso le tre Sto cominciando ad avere un po' di timore solo un po' eh Oh oh ha bussato qualcuno ragazzi ha bussato qualcuno e gli dice hai sentito sei pronto? Sì sì sono molto eccitato oh ragazzi ma sono sempre eccitati questi qui devo chiamare caserma? Oh conosciamo la nostra nuova mamma sì sì non vedo l'ora no no non aprire E' la miseria è la miseria è la miseria o mary piacere di conoscerti prego prego entra Ma che voce ha ragazzi gli ha detto posso entrare con una voce raccapprecciante quindi sei tu la mamma Eeeh scusi posso scappare in messico? No io chiedo eh il sito diceva che sei già mamma di qualcuno e dove sono i tuoi figli? Oh no oh loro non sono mai cresciuti Sono senza parole Tesoruccio lascia che ti aggiusti i capelli Sì 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 vai tranquilla che te li faccio proprio toccare i miei capelli da con le due mani sudici e svunciose Sono un pazzo eh ragazzi sono un pazzo Oh è un adulto ok voglio essere sincero con te Non abbiamo bisogno davvero di una mamma Volevamo solo provare a vedere cosa sarebbe successo Ragazzi dov'è la vostra cucina? Sarete sicuramente affamati Che cosa sto facendo? Perché si comporta così? Amico aspetta devo parlarti Come nella scorsa puntata del clown Ancora hanno il coraggio di lasciarla da sola Guarda che questi qui proprio schiaffo contro schiaffo eh Super mosso finale di schiaffi Qualcosa mi dice che è matta Ma qualcosa? Devo darmi una calmata eh Ovviamente che cosa ti aspettavi? Dice l'amico Come facciamo a liberarci di lei? L'hai appena assunta e già te ne vuoi liberare Ma per davvero? Ma che cosa mi stai prendendo in giro? Ma cosa facciamo? Qui parliamo? Ecco si sente un rumore di piatti Dai siamo rovinati Uh Scusi? Cosa stai preparando? Stufato di carne Non ho fame in realtà E chi è che mangia? Poi com'è che lo sta cucinando? Cioè Tu hai fame? Non credo di aver fame dice l'amico Beh ovviamente Chi è che mangerebbe una roba cucinata da un essere così raccapricciante? Oh i ragazzi hanno fame Mary non credo che tu debba farlo Siamo a posto così Tesoro chiamami mamma Sì vai tranquilla Subito Andiamo di là a parlare un secondo ok? Ancora? Ancora la lasciano da sola? Ma questi sono dei folli? Dei pazzi di rami tardi? Certo ragazzi abbiamo scoperto che sono dei pazzi di rami tardi Bro la voglio fuori Che razza di stufato starà facendo? Non mi sembra che abbia l'odore di uno stufato Guarda caso eh Non mangerò quella roba Se non vuoi prenderti il tetano E lo stafilococco Lancinante Non azzardare a mangiarla Di lì che non mangeremo quella merda già che ci sei E chiedile come possiamo fare per farla andare via Ok Ok andiamo andiamo Il pranzo è pronto ragazzi? Co? Ma non vi azzardate a mangiarlo Perché guardate che vi tiro proprio una raffica di schiaffi eh Grazie per il cibo ma vorremmo mangiare in privato E lei ti guarda con una faccia così tenera e coccolosa no? Vero? Ti dispiacerebbe lasciarci soli? Ma sì una delle regole principali era non lasciarla da sola Chiediglielo Continua che è già la terza volta che la lasci da sola Che è sta roba? Eh che è sta roba? Non la mangio sta merda Proviamo a metterla sotto l'acqua Senti che puzza che fa Eh madonna Ma cosa ho usato per fare quello stufato? Sembra l'odore di un bagno Vuoi vedere che ci ha caccato dentro? Che schifo Che schifo dai Quanti piatti ho usato per fare sto stufato? Meno di quanti ne avrei usati io Però il colore fa veramente ribrezzo ragazzi eh Ma cosa dobbiamo fare con sta tipa? Ma non lo so Invitala a dormire da te no? Dai tanto Boh penso che Tu non hai mangiato il mio stufato Lascialo dammelo Lascialo il mio tessoro Ma cos'è che c'ha sta tipa? Cos'è che non va? Non capisco cosa gli è preso Neanch'io che sto guardando questo video Non sto capendo niente di quello che sta succedendo Ha cercato di prenderti lo smartphone? Quella è la nostra videocamera Ha preso la videocamera Fermala Fermala Che diavolo stai facendo? Uè ma sei pazza? Eh si ma urla Non t'azzardare a rubarmi le cose perché Questa è messa male Questa qua è fuori di testa Dice il tipo Urla ancora Ma la smetti di urlare? Possiamo andare a dormire? Va come urla Come una matta Mi puoi seguire? Anzi vai avanti tu che è meglio eh Beh giustamente Sta tizia è più fuori di testa Di qualsiasi altra donna Che io abbia mai conosciuto al mondo eh Dai Brava sali le scale e vai a dormire Non vorrei mica farla dormire qui Chiede Chester No lo chiediamo anche noi Vuoi farla dormire in casa tua? Ma allora tu meriteresti proprio Le pene dell'inferno Lo sai Non abbiamo altra scelta Risponde il mongolino d'oro Perché Tu rimarrai qui Nella stanza degli ospiti Ma ragazzi Io non ce la faccio a continuare questo video eh Cioè Qui la stupidità sta dilagando eh Già Sono stati dei rincoglioniti A comprare una mamma dal dark web Ma la ospitano pure a dormire? Buonanotte Li dice Senza parole Abbiamo aspettato che si addormentasse Ma sentimmo strani rumori Eh beh Cosa ti aspettavi? Hai sentito? Si E non osi immaginare cosa stia facendo Andiamo a controllare Maronne santissima dai Andate a controllare Adesso sarà lì Con quattro braccia Tutta indemoniata come hit Maronne santissima Mary? Non è qui? Proviamo a controllare giù dalle scale Certo 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 Adesso si prendono le sbottigliate Questi qui Sti tremoni Dove diavolo è andata? Ti sta bene? L'hai persa? Oh Oh ragazzi si sono sentiti dei rumori eh Santo cielo Ancora eh Santo cielo Santo cielo Dov'è? Dice la voce Maronne Sono ancora in casa Dice una seconda voce ragazzi Una seconda voce Chi ti sta parlando? Credo tu dovresti essere a letto tesoro della mamma No io non vado a letto hai capito Non è che se tu mi decidi andare a letto vado a letto eh E adesso vedi te cosa ti combino Chiamo la polizia Non c'è neanche il lavanderia Ci credo è dall'altra parte È lì dal tuo amico Vieni qui piccolo mio Vieni qui piccolo mio Fermati Vieni qui piccolo mio Eh scusi regia Mi può ordinare il biglietto aereo per il Venezuela Questa volta? Perché voglio andare un po' più lontano dal Messico eh Dal piano di sotto si sente Un tizio che grida aiuto E dei rumori inquietanti Beh ovviamente È l'amico Che si sta caccando sotto Beh oddio Oddio Fa impressione ragazzi Sono inquietato Posso essere inquietato? Mi fa proprio schifo una roba del genere Non voglio avere niente a che fare con questa casa E con questa madre Non ordineremo mai mai più Una persona del genere dal dark web Stava parlando con qualcuno Prima chiudiamo le porte a chiave Ma sberle contro sberla Sono anche stanco Di tirarvi sberle in faccia Perché non vi meritate neanche questo Hanno chiuso la porta Porca miseria Ha dimenticato la borsa Eh vai Adesso aprila no Già che ci sei Cos'è che c'era dentro? Che schifo era quella roba? Ovviamente poi il giorno dopo Fa vedere il video delle telecamere nascoste All'amico In modo da capire che cosa ha fatto Mentre loro erano nella stanza a dormire Ti ricordi dello stufato vero? Sì faceva schifo Come? Hai assaggiato lo stufato? Sì lo ho assaggiato Dice Chester E allora ragazzi a sto punto Mi viene da dire che è tutta una ricostruzione Perché nessuna persona Sana di mente Avrebbe mangiato quel stufato Mi dispiace Siete dei pusillanimi Vabbè guardano il filmato C'è la tizia in cucina Eh cos'è che sta facendo? Ha preso la pentola La porta in bagno Oh Oh ragazzi Quindi ci ha caccato dentro Avevo ragione Mamma che schifio È rimasta lì dentro per un bel po' Minchia Velocità 8x Ha fatto proprio Una di quelle scacazzate estreme Oh merda Mi sarò preso qualche malattia Stacca 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 tutto Vabbè Hanno deciso di terminare il video Con Chester Che ha preso lo stafilococco Beh Voi ragazzi come sempre Scrivetemi nei commenti Se secondo voi Questo video È reale O è una ricostruzione E come al solito Guardatevi tutti i video precedenti Che vi lascio qua In tutte queste bellissime schede Cose strane che appaiono Tutte robe così Tutte robe allarbenti Perché la vita È fatta di cose allarbenti Ciao Ciao